Evviva, ecco Peter City! Stavo cominciando a temere che avrei dovuto passare il resto della mia vita in quella foresta. Scusi, vuole dire che lei vende pietre, signore. Questi sono souvenir di Peter City. Vuoi comprarne qualcuno? No, grazie. Sto facendo un viaggio per diventare un allenatore di Pokémon. Per favore, rianimi il mio Pokémon. Sì, lo faccio subito, Ash. Infermiera Joy? Certo, sono l'infermiera Joy. Come? Questa non è Viridian City, è Peter City. La Joy di Viridian City è la mia sorellina. Io sono la Joy più anziana. Ho sentito dire delle cose carine sul tuo conto. Grazie mille. Hai già visto quel manifesto? I campionati regionali della Lega di Pokémon. Fantastico! Ma che ti prende? Per gareggiare in un campionato regionale, devi battere vari capi palestra e prendere le loro medaglie come prova. Tu credi di esserne capace? Certo che ne sono capace.